Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale È il day after della semifinale d'andata tra Juventus e Inter Terminata con il risultato di 1 a 1 Ragazzi ho dei sassolini nella scarpa che mi fanno male Me li voglio subito togliere Intanto vi chiedo scusa se il video esce solo adesso Ma come vi avevo detto Ho avuto dei cambi di orario lavorativi Quindi iniziò a lavorare prima la sera E quindi era un problema per me fare il video ieri Non potevo e quindi mi sfogo quest'oggi Meglio perché almeno mi sono evitato qualche denuncia e qualche ban Ma ragazzi partiamo dai sassolini nella scarpa che mi voglio togliere Io penso che Simone Inzaghi alla Lazio fosse un allenatore interessante E credo che all'Inter stia facendo vedere poco Ma la cosa che mi disturba di più è sentirlo parlare in conferenza stampa È un allenatore che piange tutto il tempo Un allenatore che non prende mai le responsabilità Un allenatore che ieri va ai microfoni e dice Abbiamo comandato il gioco per quasi 90 minuti Simone Inzaghi ma che partita hai visto? Ma sai cosa vuol dire comandare il gioco? Per 90 minuti? A me non sembra assolutamente che l'Inter abbia comandato il gioco per 90 minuti Secondo me il risultato di pareggio è giusto Ci sta per le occasioni create Perché l'Inter ha avuto a mio avviso due occasioni grosse Una di Brozovic Che l'ha tirata praticamente centrale nei piedi di Perin Che comunque è stato reattivo E una con Mkhitaryan Che lì Quella lì è stata veramente una grande occasione La Ju ha avuto L'occasione di Milik Ha avuto nel primo tempo subito l'occasione con Di Maria Con una grande parata di Andanovic L'occasione del gol Aveva avuto qualche altra occasione in cui si sono mangiati Hanno sciupato l'occasione con l'ultimo passaggio Oppure perché si sono un po' in testa arditi Cioè la Ju ha avuto qualche occasione Vlaovic che poteva fare anche qualcosa di più Cioè comandare il gioco è un'altra roba Comandare il gioco lo posso sentire Da Guardiola che comanda il gioco Ma non dall'Inter Ieri sera Ma di cosa stiamo parlando? E poi un'altra cosa ragazzi Simone Inzaghi Che mi arriva ai microfoni E dice E qui divento una bestia E dice Poi entro nel fatto insieme E il concetto La presa in giro Che mi dà fastidio Che dice Lukaku è stato monito Perché non è stata capita l'esultanza Perché lui esulta sempre così In tutto il giorno Ho visto una sola volta Con il belgio Lukaku che esulta così Che tra l'altro non lo fa Diretto a una curva Ma lo fa Guardando Verso il basso Cioè una volta Cioè sappiamo cosa significa La parola Sempre Sempre significa Sempre Cioè faccio un esempio Un po' come la linguaccia Di Del Piero Un po' Come l'esultanza Di Cristiano Ronaldo Che fa sempre la stessa Praticamente O Messi O Kakà Che usavano magari Alzare lì dal cielo Cioè Quello è esultare sempre Allo stesso modo Ma non Lukaku E poi E poi A domanda diretta Ma non è che Lukaku Ha risposto così Anche Esultato così Anche per rispondere A quei quattro asini Che stanno in tribuna Scusate In curva Che lo hanno insultato Allora eh sì sì Perché io l'ho sentito Sì sì eh Simone Inzaghi Adesso Tu sei un allenatore Che piange per qualsiasi cosa Ti lamenti per qualsiasi episodio arbitrale Per qualsiasi cosa Se tu avessi veramente sentito Saresti arrivato in conferenza Invece che dire Eh ma lui esulta sempre così L'avresti detto subito Invece tu l'hai detto Perché ti è stato imboccato Perché allora Delle due l'una Perché Non è che siamo tutti cretini Cioè o è esultato così Perché Lo fa sempre O è esultato così Per rispondere A quei quattro cretini Cioè Però non può essere Tutte e due Perché allora c'è qualcosa Che non torna Cioè Io veramente Mi sembra a volte Che certa gente Tratti i tifosi Della propria squadra E delle altre squadre Come cretini E a me questa cosa Non mi piace Non mi piace Non mi piace Poi ripeto Che ci siano Quattro cretini In una curva Ragazzi Lo sappiamo E così E ci si può fare nulla O meglio Si può fare Si prendono E si buttano fuori La Juve ha già detto Che sta Collaborando con l'autorità Per individuare E buttarli fuori Via Ma questo Deve valere per tutti Deve valere quando Vlaovic E Costi Ci vengono insultati A San Siro Che si beccano I cori Zingaro Zingaro E questo e altro O alla Spezia O a Napoli Cioè vale per tutti Per tutti Ma l'esultanza di Lukaku Per quanto uno Si possa anche infastidire Dici Non reagisce come Stancovi C'è l'altro giorno Che se ne è fregato bellamente Ok Vai dall'arbitro E dici Guarda che mi stanno insultando Si fa l'annuncio E si minaccia La sospensione della partita Non che uno Tra virgolette Si fa Giustizia da solo E poi si va ai microfoni E si dice Eh no ma lui esulta sempre così Ma esulta sempre così Un paio di palle E questa è la prima Primo grosso sassolone O i primi due Vedete voi L'altra cosa Nengolan che se ne esce Sui social E dice Cosa ti puoi aspettare In quello stadio lì In quel posto lì Ma Nengolan Ma tu vuoi venire a fare lezioni Di morale Di etica A chi A chi A chi la vuoi fare Ma taci 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 Incredibile Non si perde Cioè Mi sembra Il bue che dice Cornuto all'asino Ragazzi Il bue che dice Cornuto all'asino Ma un po' di decenza Ma stare zitti Quando Non si ha niente a che fare Ma poi La cosa che mi fa Più Incazzare di tutte Sentire Certi interisti Anche dei miei amici Che mi hanno detto Eh Quadrado è giusto Nella squadra In cui merita di stare Perché vi rappresenta A pieno Ma L'interisti Si ricordano Che squadra Avevano un certo Materazzi Che negli spogliatoi Aveva cioccato un pugno A tale Cirillo Spaccandogli il labbro Oppure le entrate Che faceva Materazzi Che giocatore ignorante Era Materazzi E O no O no Non se lo ricordano Cioè Possono venirti A fare lezioni di etica Sul giocatore Perché Perché Si è incazzato Per un motivo Per un altro O ha discusso Cioè Queste robe qui ragazzi Non vanno bene Come non va bene A mio avviso Come non va bene Vedere D'Ambrosio Che dà la panchina Entra in campo Per risultare E poi va a protestare Con l'arbitro Come non va bene Vedere Barella Che è diventato A mio avviso Una roba Un Bonucci 2.0 Un Bonucci 2.0 E già sapete Che a me Bonucci Mi sta sulle balle Per quei modi Di fare che ha Quindi immaginatevi Da Juventino Barella è diventato Insostenibile Discute con i suoi compagni E' sempre lì Che mette pressione All'arbitro E' sempre lì Che si arrabbia E' sempre lì Che discute E' sempre lì Che polemizza Ma che palle Ieri ogni contrasto C'era Barella Che protestava Ogni intervento Di mano C'era Barella Che protestava Ma basta E' anche lì L'arbitro Ma ciocca di un giallo E vediamo se viene A protestarti Tutte le volte E questo vale per tutti Ripeto A me sta sulle palle Quando lo fa Bonucci Mi sta sulle palle Quando lo fa Barella Quando lo fanno tanti altri E' inaccettabile E' inaccettabile Incredibile Incredibile Io veramente Cioè Certe cose Proprio Mi urtano Il sistema nervoso E so E so già Che sicuramente Mi starò dimenticando qualcosa Ehm Ah Onana L'altro Onana porta Fuori Lukaku E fa una cosa buona E poi va lì Dall'ingresso Degli spogliatoi E esulta In quella maniera Perché non viene ammonito E lì Allora Lì ci sono solo Tifosi della Juve Dirigenti Ma che senso ha Poi ci lamentiamo Elma Il tifoso Gli ha tirato Il bicchiere di birra Che non va fatto Che non va fatto Ma se tu ti comporti così Che reazione Vuoi 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 creare Cioè Poi Se andiamo a analizzare La partita Che è quello che a me Sarebbe Piaciuto di più Ma visto che non si può fare Tanto Ehm Se andiamo a analizzare La partita Per me è stata una partita Ehm A primo tempo Molto Tattica Nel secondo Sono saliti Un pochino più in cattedra Alcuni giocatori E la partita Secondo me è diventata Anche un po' più divertente Ehm Fisica Mi piacciono le partite fisiche Ehm E mi avviso il risultato Del pareggio Un risultato giusto Noi siamo dei polli Perché per l'ennesima volta Gli abbiamo regalato Un pareggio O comunque Gli abbiamo regalato Il gol Anzi Perché l'anno scorso Alexandro Gli stende il tappeto rosso Alexis Sanchez Che Che fa vincere Il trofeo All'Inter Quanto Tre secondi dalla fine E ieri Bremer Gli ha fatto un regalone Imbarazzante Però anche lì Anche lì A me come dinamica Io quando l'ho vista subito Mi è sembrato Di rivedere Real Madrid Juve Non so se siete D'accordo con me Ma mi è sembrato E vedi Dunfris Che dà questa palla E Bremer Che fa un errore Che se l'avesse fatto Ruganio L'avesse fatto Alexandro Saremo impazziti Lo fa Bremer Va bene Però Bremer Figlio mio Però anche tu Svegliati Sei giovane Tutto quello che vuoi Però in due partite Importanti In due partite importanti Con Napoli E con l'Inter Hai fatto troppi errori Troppi errori Non si può Non si può fare Certi errori così Perché questo è proprio Un errore Ingenuo e stupido Non si può Concedere a una roba del genere Anche perché l'Inter Ieri Non avrebbe segnato Neanche con le mani Senza quell'episodio lì Neanche con le mani Quindi noi Dovemmo essere Anche un po' più furbi Più intelligenti Eccetera eccetera Perché Indirizzi una partita Con il solito quadrado Che purga Per l'ennesima volta L'Inter E poi Non ti puoi far Recuperare Con un gol così Che è un rigore così È veramente Imbarazzante Io Vi giuro che Quando l'ho visto Ho detto Avete presente La scena di Giovanni Di Ado Giovanni Giacomo In cos'è la vita Quando vede la macchina Rigata Resta tipo Cioè Ero Più o meno ero così Perché ho detto Cioè le cose sono due O si stanno lamentando Per l'ennesima volta Di un fallo di mano Che non c'è Oppure Talmente netto Che Bremer è stato Dalle mie pare Si direbbe un abelinato Era la seconda E era la seconda Cioè ma Ci rimane proprio male Dici no No ma non la puoi buttare Alle ortiche In questo modo Poi ad esempio Ieri secondo me Sono mancati un po' Di individualità Importanti La Juve Di Maria ieri Non ha fatto una buona partita A parte il primo spunto Vlaovic Troppo macchinoso In qualche occasione Poteva far meglio Locatelli Non mi è piaciuto tanto Bremer ha fatto un errore Che è costato caro C'è anche da dire Che Bremer Il campionato contro l'Inter L'aveva fatto a Torino Un partitone Però Quell'errore lì Costa tanto Gatti secondo me Ha fatto iscrittamente bene E anche lì Sapete che mi non piace Entrare nel merito Dell'arbitraggio Però Io vi chiedo Tutti parlano Di Lukaku Lukaku Ma siamo sicuri Che quel fallo Di Lukaku Su Gatti Fosse solo da giallo Perché io parlando Anche con alcuni amici Che arbitrano Alcuni mi hanno detto Eh sarebbe da arancione Cioè avesse dato Il rosso Non sarebbe stato Uno scandal Cioè Lukaku era già nervoso Lukaku era già nervoso Era entrato già nervoso Quindi va bene L'idea è giallo Dzeko secondo me Anche lui andava munito Per un fallo Su quadrado Ma sicuramente Ci sarà stato anche Qualche giallo in più Per la Juve Quindi va benissimo Così uno mi attacco A giallo Non mi frega una mazza Però Quello che Vorrei far capire Che è comunque La partita fisica Una partita maschia Quindi certe cose Succedono anche Il discutere Il litigare Ci sta A caldo Ci sta Ma è brutto da vedere Però ci sta Cioè a San Siro Poche giornate fa Correa D'Ambrosio Cioè D'Ambrosio che li gira L'orecchio Tira per l'orecchio Paredes Cos'è Cioè È per quello Che io poi Mi arrabbio È inutile Che vengono A fare la morale Quando poi Loro Sono i primi State zitti È finita così Ci dispiace Ci siamo un po' Abbiamo un po' Esagerato Sia una Che l'altra Squadra Basta Finisce lì Chi si deve Prendere la squalifica Si prenderà la squalifica No No Poi bisogna dare I microfoni E dire poi Pure cose inesatte Sopra la partita E allora lì diventa un matto E allora lì diventa un matto Io vi giuro ragazzi Simone Inzaghi Lo stimavo Tanto Io ero convinto Che la Lazio Quando era Lazio Che fosse un buon allenatore Che fosse un allenatore Che potesse far bene Non mi sta piacendo Ma soprattutto Non mi piace A punto di vista dialettico È imbarazzante E io vedo anche Altri Ad esempio Neschio Qui su Youtube Che lo attaccano E sono interisti Evidentemente Evidentemente Non piace nemmeno a loro Visto che è con il Monza È passato Che non hanno vinto Perché c'è l'euro arbitraico La Juve Il fallo Il fallo di Rabiot Che poi Quanto avrà mai inciso Quel tocco Di qua Di là Di giù Ha cancellato tutto Il resto della partita Cioè lui poi non è riuscito Più a fare un gol Alla Juve Però è colpa Della Juve Perché sono cattivi E ruba Ieri Cosa dice Vai ai microfoni Abbiamo comandato 90 minuti Massimo Lenzaghi Ma te ne vuoi andare a casa Ma mi fai la cortesia Dai Quando ci sono le conferenze Vattene a casa Mandaci il vice Manda chi vuoi Però È una roba inascoltabile Inascoltabile Cioè lo mettono Sul podio Insieme a Sarri E Spalletti Però loro per motivi diversi Perché Spalletti È di una mollezza Che ogni volta che devo Sentire in una conferenza stampa È proprio un patimento Sarri È lì E lui è il terzo Cioè sul podio Poi fate voi La classifica Però dai È veramente una roba Imbarazzante Quindi boh Niente ragazzi Mi sono sfogato E considerate che è passato un giorno Immaginate come ero ieri Però a me Sta roba mi fa Venire matto A me Le prese per il culo Ragazzi Mi danno fastidio Mi danno fastidio Sarà perché io Sono fatto in una certa maniera Che dico quello che penso La cosa la dico una volta Nel senso È quella Non è che No Ah Poi ultima cosa Chiudo Perché se no Non l'hai detto Quadrado Andanovic A parte che anche lì Quelli di Medias Ma io dico no Li stai inquadrando Che stanno discutendo Ma inquadra loro Che cosa cambi Cosa sposti E vabbè Ehm Ho visto il video Sì è vero C'è Quadrado Che cerca di colpire Andanovic Mentre tra l'altro Quadrado veniva tenuto Spostato Eccetera eccetera Ehm Quindi Va squalificato Senza dubbio Ma A mio avviso Va anche E' squalificato Andanovic Perché Andanovic Nel video che ho visto io Perlomeno Anche lui cerca di colpire Quadrado Prima di Quadrado Quadrado lo spinge Che lo manda a quel paese Lui Perde le staffe E io ho visto Andanovic Nel video Andanovic Che praticamente Volontariamente Volontariamente Colpisce tipo Questo putto qua Quadrado Che Quadrado Allora lo colpisce Cioè Quindi anche lì Sono Due giocatori Che hanno sbagliato Squalificato Tutte e due Basta Eh no Ma perché Quella ha fatto Quella No Si prende il video L'hanno fatto Tutte e due Benissimo Fuori tutte e due Basta E boh Dai Mi sono un po' sfogato Era Lo volevo dire Lo volevo dire Va bene così Forse mi sono perso Un attimo Qualcosa Vi chiedo scusa Ma sono comunque Ancora A caldo Perché la partita Ieri L'ho L'ho sentita L'ho sentita Parecchio Ecco E Sono contento Perché era da tanto Che comunque Non sentivo Così una partita Quindi Mi fa piacere E Ultima chiosa Su chiesa Ragazzi Chiesa deve entrare E Deve switchare Deve switchare Cioè Allora io lo vedo Che ha paura Che si preoccupa Che Vabbè Ancora non è in condizione Si vede Cioè Ieri Gli hanno messo il raddoppio Non l'ha mai saltato Non l'ha mai strappato Però deve Deve fare proprio Lo switch mentale Ok Detto ciò Detto ciò Spero che Quei quattro imbecilli In cura Vengono Vengono tirati fuori Perché Perché così Ah Ultima cosa Romeo Agresti Gianni Balsarini Che sono giornalisti Che erano lì allo stale Balsarini Era a bordo campo Vicino all'Atoio Loro non hanno sentito Questi cori razzisti Quindi comunque Evidentemente Erano pochi Individui Che l'hanno fatto Questo Non cambia nulla Però Far passare la curva Tutta la curva Razzista Non mi sembra opportuno La madre Degli imbecilli E' sempre incinta Su magari 2000 persone Se ci sono Due imbecilli O tre imbecilli Purtroppo Si prendono E si buttano fuori Punto Finisce lì Va bene ragazzi Vi mando un forte abbraccio Fatemi sapere la vostra E Ditemi la vostra Su Simone Inzaghi Se avete piacere Io veramente Lo trovo ormai Di un livello Imbarazzante Imbarazzante Incommentabile Incommentabile Forte abbraccio Ci vediamo Molto presto Anche oggi Lavoro Quindi non farò Il video Della partita Della Cremonese E E niente Ci aggiorniamo Molto molto presto Ragazzi Un forte abbraccio Ciao Ciao